Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi video decorazione agenda, andremo a decorare la settimana che va dall'11 al 17 di dicembre ed è la cinquantesima settimana dell'anno Prima di iniziare però volevo farvi vedere come vado ad archiviare un po' di pagine della mia agenda perché ovviamente adesso è veramente troppo grossa e non riesco neanche più ad aprire gli anelli per tirare fuori i fogli Allora, dai cinesi ho comprato questi anellini che sono quelli che si usano anche per fare gli album e andrò ad inserire appunto i fogli qua dentro Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok, questa è la mia decorazione di questa settimana L'ho fatta un po' a tema Parigi, non so, mi ispirava così, ho visto i miei washi e volevo usare appunto questi e quindi ho fatto un po' a tema parigino Ora finalmente riesco a mettere meglio le cose in agenda Inserisco anche il mio segnapagina Mettete un bel pollice in su se vi è piaciuta la mia decorazione e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate Vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao!